Benissimo, buonasera, vediamo stasera quello che non siamo riusciti a vedere a lezione quindi diciamo che faremo anche una lezione a gennaio, credo, su questo argomento ma intanto una piccola preview completa in modo tale che possiate capire cosa si può fare con i cosiddetti NPC non playing character, non player character che sono praticamente dei personaggi esattamente come gli avatar che siete voi quindi quando entrate voi siete un avatar ma sono dei manichini o dei bot come vengono anche chiamati che stanno sulla sim e fanno determinate operazioni per esempio vediamo ora come ora, questo qui è uno scriptino che quando viene cliccato, se lo clicco, produce, dovrebbe produrre ecco c'era un po' di lag, adesso dovrebbe funzionare in pratica se io clicco su questo oggetto quello che dovrebbe apparire, vedete che c'è un avatar che è esattamente identico a me quindi alla mia stessa apparenza e che esegue un'animazione e poi rimane lì come manichino poi se io lo riclicco, questo avatar sparisce la cosa interessante è che questi avatar rimangono sulla sim anche se non ci sono, quindi possono essere messe a fare delle animazioni magari qui può essere una cosa di tipo toccami per vedere come si fa il pane insomma come si fanno determinate cose quindi la gente clicca, compare un avatar che fa determinate cose e poi eventualmente rimane lì può essere usato anche per fare delle mostre d'abiti o cose simili un'altra cosa interessante è quest'altro qua vedete che se io clicco anzi se io faccio il reset direi di questo altro script quello che dovrebbe fare ecco allora in questo scatoletto qua c'è uno scriptino che quando viene resettato produce la generazione di un avatar vedete questo qui sempre alter ego mio che comincia e ogni tot seconde ogni 30 secondi diciamo che vaga per la sim quindi questo può essere costruendo un po' di questi questi avatar si possono ovviamente entro certi limiti animare anche le proprie sim ora può essere che ci siano troppi manichini disponibili che viaggiano, che fanno ed ecco che allora ci sono anche degli script come questo qua terzo script che può essere usato per far fuori insomma cancellare tutti gli script vedete che nessun avatar è stato danneggiato durante questo processo e quindi noi abbiamo visto come degli esempi ora solo una cosa questi script qua li renderò disponibili però una piccola precisazione a parte che non sono miei e si trovano in giro però li allegherò come pasta bin in modo tale che voi possiate usarli ma la cosa importantissima è che la sim dove siete deve avere abilitato gli npc mi spiego meglio se io vado su un'altra sim dove non c'è questa abilitazione ad esempio prendo questo che vi ho detto che fa che fa l'animazione iniziale quindi diciamo manichino manichino animazione questo lo prendiamo quindi prendiamo una copia e andiamo in un'altra sim dove non c'è questa abilitazione non so ad esempio vv6 ecco vv6 tanto per dire vado su un'altra sim dove magari ho il diritto di costruire qua adesso vedete che qui non mi lascia ah no mi ha lasciato costruire questo cubo ma lo togliamo ok e al posto ci mettiamo il recent ci mettiamo il manichino animazione ok allora questo manichino animazione se andiamo e gli facciamo il reset dello script vedete che non compare l'avatar sopra perché non compare l'avatar sopra a parte che potrebbero anche succedere problemi di lag come ho visto succedere anche di là però in linea di principio qui non lo fa non lo fa perché non è abilitato su questa sim sapere se abilitato o no è una cosa che dovete chiedere ad Andrea o insomma a Marco insomma chi gestisce fisicamente chi di voi ha bisogno di provare a usare degli NPC però per esercitarvi vi consiglio di venire appunto sullo welcome area quindi welcome andiamo qua e poi fare le vostre prove qui in loco ok e quindi qui ci troviamo appunto su con questi signori allora ripetiamo alcuni esempi quindi vediamo come funzionano questi allora questo qui è lo script che è toccato quindi questo possiamo chiamarlo script touch to create to create allora questo qui praticamente quando lo clicco dovrebbe far comparire l'animazione manichino animazione ecco vedete e fa questo mestiere e poi quando lo riclicco sparisce quindi vedete che fa sempre questa operazione questo qui è lo script che vi ho detto che lo cancella e questo qui invece è uno script che quando viene resettato volendo si può fare che quando viene toccato insomma quando volete quindi quando viene resettato genera invece un wander cioè un passeggiatore e poi abbiamo in fondo anche qua un uno script che invece risponde vedete sul barra 10 quindi ci può dare dei comandi quindi barra 10 help e risponde a tutti questi comandi e quindi si possono ad esempio io posso creare degli avatar fatti come son fatto io quindi supponete volete fare 10 avatar diversi non li volete tutti uguali all'alter ego che ce l'ha ma volete diversi avete delle cose nella vostra nella vostra diciamo clothing avete ma adesso mettiamo magari semplicemente un Apollo giallo ok mi vesto con un Apollo giallo e poi cos'altro posso mettere ancora mi ho messo un Apollo giallo ma posso mettere qualunque altra cosa metto dei jeans quindi questi qui che adesso ci impiegano un attimo ad arrivare e poi vabbè una maglietta così insomma era solo per farvi vedere che si possono mettere cose diverse allora qui questa impostazione la posso salvare come con una note card di apparenza quindi si può fare una clone e poi note card quindi questo qui potrebbe essere clone marra 10 clone e poi mettiamo polo gialla allora avendo fatto in questo modo lui genera dentro vedete che ha creato una polo gialla qua cioè una note card con dentro tutte le caratteristiche che gli permetteranno di produrre un manichino fatto come sono adesso per generarlo effettivamente devo fare create e poi il nome della note card quindi faccio barra 10 create polo gialla e dunque ecco vedete che lui ha creato un pochino lontano da dire il vero comunque un avatar al quale gli posso dare poi una serie di comandi e qui si può capire anche la potenza dei manichini perché gli si può dire all'avatar di ad esempio andare verso una certa posizione quindi gli posso dire barra 10 e poi gli dico move to la mia posizione che è vedete 126 124 22 126 124 22 e a questo punto vedete che l'avatar prende e cammina cioè vuole in questo caso nella mia posizione probabilmente si può dirgli anche walk to walk to insomma ci sono diversi comandini che poi si possono esplorare comunque se poi si dice walk to 130 120 23 adesso qui probabilmente non funzionerà perché bisogna studiarselo ecco non reagisce bene e a fare uno scriptino particolare ma comunque l'idea credo che l'abbiate capita quindi la premessa che poi magari esploreremo al rientro dalle vacanze a gennaio è quello di poter creare dei manichini che fanno certi mestieri quindi ad esempio sfruttando anche la lezione che abbiamo anche lì soltanto iniziato la settimana scorsa sull'animazione voi potete creare un insieme di animazione potete avere degli abiti dei vestiti e poi ad esempio cliccando su un determinato cubo un determinato bottone potete far comparire degli avatar che fanno delle cose possono fare anche tipo presepe o quello che è anche qua stessa cosa andiamo poi ricordatevi lo script per la cancellazione questo che cancella tutti gli avatar che sono sulla sim quindi questo per dire è anche pericoloso però può essere un'utile cosa di emergenza se per caso avete troppi avatar li cancellate tutti e poi li ricreate resettando lo schermo lo script quindi credo che questo sia un po' diciamo un anticipo ma pensate se per caso vi può servire per creare qualche cosa qualche effetto sulle vostre sim in open sim e tra parentesi che questa è una cosa che non si può fare su second life e quindi è un vantaggio notevole di open sim rispetto a second life e con questo è tutto ci sentiamo il prossimo mese grazie a tutti